Il lavoro che Italia e Serbia stanno facendo insieme dimostra la rilevanza strategica che l'Italia attribuisce alla Serbia, anche per questo siamo stati e continueremo a essere tra i principali sostenitori del processo di allargamento nel dibattito europeo, io l'ho sempre definito riunificazione dell'Europa, io penso che l'Europa non sia un club, penso che non sia un club nel quale qualcuno decide chi sia europeo e chi non sia europeo, è stata la storia e la geografia a decidere chi è europeo e credo che quello che le istituzioni europee debbano fare è un processo serio, il più possibile veloce. Noi ci muoviamo, l'Europa non potrà dirsi davvero unita fin quando i Balcani occidentali non avranno fatto ingresso nella famiglia europea intesa come istituzione. Il Presidente Vucic sa benissimo che può contare sul sostegno e sull'impegno dell'Italia a partire dal prossimo Consiglio europeo, che è un Consiglio europeo da questo punto di vista molto importante, anche per velocizzare l'accesso graduale al mercato unico, come è stato indicato nel piano per la crescita che è stato presentato dalla Commissione europea. Ma sono molti altri i temi sui quali noi pensiamo che si possa collaborare tra persone serie, pragmatiche e che cercano di immaginare soluzioni ai problemi. Abbiamo parlato di immigrazione e di sicurezza, un'altra materia che sta particolarmente a cuore, come voi sapete, all'Italia. Il contrasto all'immigrazione irregolare per quello che riguarda la rotta balcanica è un obiettivo che Roma e Belgrado condividono. Voglio anche qui ringraziare la Serbia per gli sforzi che sta dimostrando in questa direzione. Noi siamo convinti che le nostre energie debbano spostarsi sulla dimensione esterna del problema per affrontarlo prima che arrivi in Europa. Ovviamente la dimensione esterna è l'elemento per noi centrale nel contrasto dei flussi illegali, che è l'unico modo anche per risolvere la nostra questione dei movimenti secondari. Chiaramente abbiamo parlato delle crisi in atto. A mi ćemo sapere da cenimo l'italiano supporto, sapere da pokažiamo da siamo... Grazie. Grazie a tutti.